ciao a tutti e benvenuti in un altro episodio di mtg lore pills da parte di images of lotus oggi parliamo di un po di lore di kamigawa visto che ovviamente siamo in hype per la nuova espansione allora kyodai questo bestione mitico vedete questo drago è la soul of kamigawa se avete notato ci sono già altre anime dei vari piani questa è più importante perché ha un pochino più di storia rispetto alle altre allora questo era il pezzo di okagachi che era diciamo il patrono di kamigawa che era stato rubato e aveva creato praticamente ha fatto scaturire la guerra lei è legata adesso in maniera indissolubile con l'imperatrice di kamigawa the wandering emperor che tra l'altro noterete non ha un tipo di placewalker nel senso non ha un nome perché il suo nome è segreto in quanto imperatrice di kamigawa qual è il problema principale però perché fino qua tutto bene insomma sono legate governano assieme tra virgolette ma tutto bene è l'imperatrice alla scintilla che le permette di viaggiare tra i piani buggata per colpa di tezzeret cosa vuol dire buggata vuol dire che ha un problema gliela tra virgolette hackerata rendendola instabile praticamente lei salta tra i piani del multiverso senza sapere dove finirà senza poter poterlo controllare e anche neanche attivarla volontariamente quindi lei è vincolata a non poter stare in un posto per troppo tempo che a un certo punto salta va in un piano a caso almeno può girare vedere tante cose però insomma sarebbe più carino potesse stare ferma poveretta e kaito che invece è il placewalker quello ninja è uno dei sui migliori amici e lui cercherà di risolvere la situazione ma questa sarà per un'altra volta ne parleremo più in là spero che sia stato interessante vi abbia aiutato a capire un po meglio la situazione di kamigawa e alla prossima